Una vicenda drammatica di quelle che lasciano il segno fra tutti indistintamente. Un bambino che muore a soli cinque anni e che in cinque anni ha vissuto una vita d'inferno. A Lama la gente è incredula, non si capacita di fronte ad un destino così duro che si è accanito su un bambino. È triste pensare che in cinque anni questo vicino che vita ha avuto. Un po' si è strumentalizzato, ritengo, sebbene non faccia male strumentalizzare su questa situazione che è quella che è. Sappiamo tutti dell'inquinamento, però è difficile mettere insieme causa ed effetto. Non mi va di parlare. Il padre del piccolo Lorenzo, Mauro, sotto ufficiale di Marina, è chiuso nel suo dolore con sua moglie Roberta e un altro figlioletto. In passato ha parlato pubblicamente della vicenda di suo figlio, della grave malattia, della lotta impari per cercare di salvarlo. Ora no, non se la sente, tiene lontane le telecamere ed i cronisti. Al funerale hanno partecipato anche i rappresentanti di alcune associazioni ambientaliste. Ascoltiamo il commento di Alessandro Marescotti di Pislink. Gli studi epidemiologici, come lo studio Sentieri, dicono che c'è un eccesso di patologie tumorali a Taranto fra i bambini del 54% rispetto al resto della regione. Purtroppo oggi questo bambino fa parte di un'altra categoria, l'eccesso di mortalità, che a Taranto arriva al 20% in più rispetto alla media regionale.